Cos'è l'encefalite ischemica ipossica? L'encefalite ischemica ipossica coinvolge un trauma cerebrale che si verifica quando c'è un insufficiente apporto di sangue e ossigeno trasportati al cervello. A differenza di altre forme di lesioni, questa situazione generalmente coinvolge ampie aree del cervello. Diversi tipi di encefalite sono solitamente causati da lesioni o condizioni mediche, tra cui traumi alla nascita, infezioni o varie condizioni mediche. I sintomi e il trattamento variano a seconda dei fattori causali e dell'estensione del danno cellulare. Il glucosio e l'ossigeno forniscono l'energia richiesta dal cervello per lo sviluppo cellulare durante gli anni di crescita fisica e per la trasmissione neurale che si verificano durante tutta la vita. Una catena di eventi devastante può verificarsi con un'interruzione in questo approvvigionamento di cibo, che di solito viene trasportato facendo circolare il sangue. La trasmissione tra i neuroni diminuisce fino a quando la funzione cellulare cessa completamente. Quando le cellule diventano inattive, iniziano a morire. I cambiamenti chimici all'interno del cervello causano generalmente un afflusso di liquidi, che promuove il gonfiore del cervello e un'ulteriore distruzione cellulare. Una delle cause dell'encefalite ischemica ipossica è il trauma della nascita in un neonato. Lividi, commozioni cerebrali, fratture del cranio e compressione del cordone ombelicale causano vari gradi di circolazione sanguigna e gonfiore dei tessuti. I sintomi di questa condizione in queste circostanze possono apparire come letargia, paralisi, attività di sequestro o morte, a seconda della quantità di danni subiti. I neonati sopravvissuti al trauma possono sperimentare ritardi dello sviluppo, ritardo mentale o paralisi cerebrale. Nei pazienti di qualsiasi età, infarti, shock e ictus tutti possono precedere l'encefalite ischemica ipossica. Trattare l'encefalite ischemica ipossica è un processo complesso e generalmente implica inizialmente la correzione della causa sottostante dei disturbi della circolazione sanguigna. Il personale medico monitora i segni vitali ai vari laboratori per determinare quando potrebbe essere necessario l'integrazione. Se necessario, i livelli insufficienti di ossigeno nel sangue vengono generalmente corretti con fonti esterne. Elettroliti per via endovenosa e sostituti del glucosio possono essere somministrati per correggere gli squilibri e nutrire nuovamente il cervello. Anche l'impulso e la pressione sanguigna sono generalmente mantenuti entro determinati parametri da farmaci. In caso di infezione, i fornitori di assistenza sanitaria somministrano antibiotici e valutano la temperatura corporea. Possono verificarsi convulsioni a causa dell'aumento della pressione intracranica, che richiede un trattamento. Quando l'encefalite ischemica ipossica si verifica nei neonati, gli operatori sanitari spesso inducono l'ipotermia, poiché la riduzione della temperatura corporea previene ulteriori traumi cerebrali diminuendo l'attività cellulare e le esigenze nutrizionali. I medici possono usare i farmaci per provocare un coma chimicamente indotte in pazienti più anziani che subiscono traumi cerebrali per ragioni simili. Complicazioni di encefalite ischemica ipossica variano a seconda della durata del tempo prima di ricevere il trattamento e la gravità del trauma. Recupero di pazienti in genere sperimentano vari gradi di compromissione cognitiva, neurologica e fisica. I pazienti in genere richiedono diverse forme di terapia una volta stabilizzate in via di guarigione.